Hashtag 4JSAUS Allora, prima che inizio il video, ragazzi, volevo ricordarvi semplicemente che Sono anche Eccitato Vai cazzo, pensaci tu Nicolo Calabrese, fuck, cantante preferito, al momento è Siapallo Bagassa sappi che, dopo che ti ho fatto il pieno, hai pinaccio talmente spanato Da Mauro La Rosa, cosa ne pensi di Esmeralda Morichelli? De Tom? un progetti Falta Chi crocifaaa, fu HP, I ne su fala cosa fra te e il ciccio gamer? Ovvio che si Non potete Non potete Mascome Buongiorno Grazie a tutti.